Scusa, ripeti la notizia per l'amico milanista. Via, via, via. Il giornale. All'ottanta, cos'era? L'ottantaseiesimo, sì. Rigore per il Milan, sbagliarono a Vigno. No! Espulso Lucio. Damme il coltello. Inter in nove. Adesso ci sono ancora quattro minuti. Ecco, e prendi il coltello Giovanni, prendilo. Damme il coltello, io. Eh, ma per me non sai. Faccia hara tiri. No, adesso arriva il mago. La notizia più bella dei tuoi cinquant'anni, la sconfitta del Milan. E' che probabilmente l'Inter giocherà in difesa negli ultimi quattro minuti a sto punto. Dico, è che probabilmente negli ultimi quattro minuti l'Inter giocherà in difesa. Questo è l'interista. Anche il nove. Anche il nove. Lasciamoli fare con la bandiera che in due partite segue molto. Questa me la mandi? Fanno sentire gli ultimi quattro minuti. No, questa te la metto su YouTube come arrivo a casa, subito. Fai un saluto in danese. Fai gli auguri all'Inter in danese. Esatto. Ma se dice Inter in... Ma se internazionale... No, non vengono fuori queste parole. Facciamone uno in olandese, l'unica roba che sapevo le erastiche, muovi bene, c'è con la detene. No, non vengono fuori le erastiche, quando venivo giù le erastiche. No, non vengono fuori le erastiche. Eh, boh. Quando facevo il cameriere qua, che si...